Un conto è combattere sempre il frontale, un conto è saperlo, proiettare l'avversario uscendo sia a destra che a sinistra. E in questa cosa andiamo a vedere le distanze. Ci sono due tipi di distanze. Io avanzo e metto i calci perché ho una distanza media. Se sono troppo vicino, che avanzo... 1, 2, 3... Sempre, dall'altra parte... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Quindi appoggiare la mano su quella di fondo. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 3...